Vi faccio vedere come funziona la connessione satellitare su iPhone 14 Pro Nelle impostazioni alla voce SOS Emergenze scorrendo fino in fondo Eccolo qua, Emergenze tramite satellite, c'è la possibilità di provare una demo Proviamo la connessione satellitare, è sì una demo ma davvero lui adesso andrà a cercare i satelliti In questo momento possiamo far finta di essere sperduti all'Hawai, siamo davvero all'Hawai ma non siamo sperduti Posizionati in modo da poter vedere il cielo senza impedimenti Ok ci siamo, ha trovato qualcosa ma mi dice che mi devo girare verso il satellite Connessione attiva, quindi sono davvero connesso a un satellite in questo momento Non posso rispondere perché essendo una demo questa cosa mi è impedita Non scatenerò certo un allarme per niente ma veramente impressionante